Ciao carissima, sono un po' ancazzato, però te lo faccio lo stesso, no, perché? Allora, mescoliamo le capo, giusto? Sì. Ok, mescoliamo anche l'americano, guarda, così, pure, abri così, se no, no? Sì. Guardi che è una cortesia, mi prendi la carta, tu? Guardi, farvi vedere in camera, vieni? Fai vedere in camera. Mi sta bene? In camera. Ci sei? Sì. Ok, metti la pentola. Tu dentro. E tra i ricordi bene, nera. Può essere, può essere, magari una carta, una figura, magari, può essere, può essere una figura, un simbolo che piace le donne, può essere, può essere che sia una carta, può essere che sia questa, può essere, può essere, può essere, può essere, può essere, in effetti è proprio questa. interessante, pure l'avevi messa dentro il mazzo, non stanno, ti ho cortesia. E proviamo un'altra cosa interessante. Tocca la carta, guarda la tua. Guardala bene, mettila nel mazzo dove vai tu. Devo farla vedere? Sì, sì, sì. Sì, sì, fai vedere in camera. Sì. 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 Chiudiamo attento, giusto? Sì. Vedi che è dentro, no? Sì. Sicuramente sarà da qualche parte, non si fa. Sì. 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 Quattro di fuori. Gira. Ti ho detto che avrei vincenne. Interessante. Fisco. Interessante. Ma, se ti chiedessi una cortesia, pensai a me la tuoi. Hai vista? Sì. Vuoi farci vedere meglio? Guarda. Hai già vista? Sì, sì, l'ho già vista. Già vista? Ok. Guarda qui. Lossa nera. Lossa nera. Nera. 96%. Fiori picche. Picche. Interessante. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, no, dieci, già. Donna. Grande. Scusa. Due, tre, quattro, cinque, sei. Cinque, sei. Un cinque, un sei. Può essere? Cinque, sei. Cinque, sei. Cinque, sei. Sei di picche, giustos? Interessante. Carissimo, è questo Magic Boy? Non so, cazzo tuo. E facciamo una foto insieme? Una foto di...